Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Per i consumatori e di 250 per gli esercenti. Prosegue la stagione del Globe, il Teatro Scespiriano di Villa Borghese. Da domani al 21 agosto è in scena a sogno di una notte di mezza estate. Infine ricordate che se avete bisogno di un elettricista o di fare spese in agosto potete conoscere l'elenco delle attività commerciali, degli artigiani e dei servizi aperti ad agosto a Roma e provincia chiamandolo 060606 o consultando il sito di Roma Capitale. E come sempre 060606 o comune.roma.it Grazie a tutti.